Ben ritrovati ad una nuova puntata dell'ospedale per amico. Recentemente c'è stata una grande novità organizzativa ma che anche dei risvolti positivi per i pazienti all'interno dell'azienda ospedaliere universitaria integrata, cioè le due unità di anatomia patologica sono state fuse in una sola. Ci racconta che cosa faccia l'anatomo patologo il nuovo direttore unico, il professor Marco Chilosi, ben ritrovato. Perché dico ci deve spiegare che cosa fa? Perché l'anatomo patologo è una figura che ha a che fare con i pazienti soprattutto oncologici o quando si sospetta un tumore, ha a che fare durante tutto il percorso ma il paziente talvolta non lo vede mai personalmente. Che cosa fa insomma l'anatomo patologo? L'anatomo patologico è una disciplina tra le più anziane della medicina moderna, tenendo conto che nasce dall'anatomia, cioè dalla ricerca di capire le malattie, osservando le variazioni degli organi. Quindi all'inizio era solo anatomia perché si vedeva l'alterazione morfologica degli organi, dopodiché si è sviluppata la microscopia e quindi le alterazioni sono state estese all'osservazione del tessuto al microscopio, quindi andando a vedere le cellule, come si organizzano, come si differenziano una dell'altra. Questo ha dato delle informazioni preziosissime per capire le malattie, ma anche il contributo diagnostico operativo che attualmente è stesissimo. Alle classiche indagini microscopiche si aggiungono oggi le più sofisticate indagini molecolari che investigano la genetica delle cellule e le mutazioni, uno studio fondamentale per lo sviluppo di farmaci antitumorali sempre più precisi. L'unità operativa complessa di anatomia e istologia patologica dell'azienda ospedaliera di Verona analizza ogni anno migliaia di campioni biologici. L'anatomia patologica che adesso a Verona è strutturata su due sedi, Borgo Trento e Borgo Roma, unificate. Nel complesso operiamo circa 40.000 biopsie l'anno, quindi 40.000 campioni di tessuto, su cui vengono fatte anche più di 10.000 test di immunostochimica, 2.000 di biologia molecolare e anche i citologici. Per cui alla fine abbiamo questa enorme massa di casistica a cui dobbiamo dare delle risposte non solo in tempi brevi, ma anche qualitativamente idonei per le necessità della medicina. Come si gestiscono soprattutto le tempistiche? È chiaro che per il paziente e forse anche per i colleghi prima tornano indietro i risultati di questi campioni e meglio è, però l'accuratezza richiede tempistiche di un certo tipo. Noi abbiamo tutta una modulazione di tempistiche che sono governate in primis dalle esigenze cliniche, assistenziali. Un'urgenza, un paziente grave in cui bisogna velocemente scegliere una terapia di salvataggio immediato, necessita di una diagnosi velocissima. Altro problema è quello della necessità di approfondimento. A Verona c'è una casistica molto complessa, le specialità, l'ematologia, la pneumologia, il pancreas, la ginecopatologia e tanti altri campi clinici. La casistica può essere molto complessa, la medicina moderna prevede e pretende giustamente un livello di dettaglio morfologico e anche molecolare, come dicevo prima, molto sofisticato, per cui in pochi giorni non si può studiare e poter dare tutte le informazioni necessarie. Quindi il tempo non può essere quello di un giorno, due giorni, tre giorni, perché bisogna fare tutta una serie di cose. Noi assicuriamo che con le risorse disponibili i tempi sono i minimi consentiti dalla nostra potenzialità anche di risorse. I campioni non hanno tutti lo stesso grado di urgenza, come viene definita la priorità? Noi abbiamo la possibilità di segnalare urgenze che possono essere già per gli esterni, per esempio messe e indicate come priorità con appositi codici dal medico curante, il medico del territorio, ma l'obiettivo principale è quello della patologia più complessa per gli interni, nei quali ovviamente abbiamo anche lì dei codici di urgenza o di percorso prioritario. Direttamente il clinico, non solo per telefono, ma anche in queste riunioni, può segnalare e segnala delle particolari esigenze. Quindi la personalizzazione della casistica è assolutamente puntuale in tutti i casi. L'anatomo patologo lavora sui campioni di cellule e di tessuti prelevati dal paziente per fornire una diagnosi nell'ambito di tumori, patologie infettive, malattie degenerative, dismetaboliche, immunitarie e malformative e per l'identificazione delle cosiddette malattie rare. Gli esami diagnostici più frequenti possono consistere in analisi istologiche, cioè dei tessuti prelevati attraverso biopsia o citologiche sulle cellule. Gli esami istologici implicano per definizione una sportazione di un frammento grande o piccolo e quindi sono più traumatici, mentre quelli citologici prendono solo cellule, quindi non tessuto strutturato con vasi e quant'altro, e quindi sono meno traumatici per il paziente. Però complessivamente sono meno informativi, quindi vengono spesso usati, perché altrimenti faremo solo quelli, e quindi vengono molto spesso usati per fare una sorta di base, l'esempio più tipico è il pap test, dove è nata la citologia, dove c'è qualcosa che non va, andrò alla biopsia, cioè un esame istologico. Quindi esami che sono di più basso costo, di più rapida esecuzione, e quindi questo, il laboratorio di citologia, accetta direttamente i vetrini o il materiale sulle cellule e il tempo è rapidissimo. C'è già sul vetrino le cellule come un pap test, uno le colora attraverso il laboratorio appunto e le può guardare al microscopo immediatamente. Quindi basso costo, rapidità di esecuzione, sappiamo tutti come, tutti vogliamo avere gli esami subito, no? Quando c'è un problema, quello è comprensibile, e quindi una qualità molto buona, ma non a livello dell'esame istologico. L'analisi al microscopio di un frammento di tessuto prelevato attraverso la biopsia permette di confermare o smentire il sospetto di malattia e di stabilire le successive terapie mediche o chirurgiche, ottenendo il maggior numero di informazioni possibile con la minore invasività. Ovviamente una biopsia piccola, un frammento cutaneo, una biopsia gastrica, un neo, insomma sono gli esempi, possono andare avanti un bel po', viene utilizzata tutta sempre, non solo, ma viene anche sezionata su sezioni multiple, perché vogliamo avere vari livelli dello stesso tessuto. Quindi la piccola sempre tutta. Razionalizzare è fondamentale. Esiste tutta una procedura ben codificata, per cui a seconda del tipo di patologia della storia clinica del quadro radiologico, uno farà dei prelievi, che possono variare da 5, 10%, 20%, dipende dalle varie situazioni per avere il massimo di informazione col minimo di peso, anche di costo e gestionale. L'anatomopatologo è coinvolto anche quando il paziente è già in sala operatoria, per chiarire la diagnosi della malattia o nel caso in cui siano emersi durante l'intervento nuovi quesiti diagnostici. L'esame estemporaneo intraoperatorio può cambiare il corso dell'intervento. È una tipologia di esame particolare, che richiede tutta una strumentazione diversa da quello che è il trattamento rutinario del campione, perché noi siamo chiamati a dare una risposta al chirurgo, cosiddetta estemporanea, cioè vuol dire mentre lui sta operando. Un esempio, il chirurgo sta asportando un pezzo operatorio, di solito affetto da una patologia oncologica, ci chiede come sono i margini di questa resezione. Cioè i margini di resezione sono o non sono liberi da malattia? Perché lui, a seconda della nostra risposta, può modificare l'intervento in sala operatoria. Se noi dessimo un margine di resezione positivo per neoplasia, lui ampia la resezione. Oppure sta operando sempre una patologia oncologica del pancreas, vede un nodulo sospetto al fegato, molto piccolo, che quindi non era stato visto prima. La sua domanda è, ma questo nodulo è o non è una metastasi? Se è una metastasi, l'intervento è concluso. Quindi questo implica un trattamento del materiale molto rapido, in contemporanea con l'intervento, appunto perché la nostra risposta può condizionare l'intervento chirurgico. I risultati degli esami, in questo caso, devono essere rapidissimi. Utilizziamo quindi non i normali fissativi, ma una tipologia di fissativo, che una volta era l'azoto liquido, adesso è un altro tipo di fissativo, che mi rende, che mi permette di tagliare il materiale, deve rendermelo compatto. È un tipo di materiale quindi che viene allestito o congelato con l'azoto, o che viene reso solido, in modo da poter essere tagliato in questo particolare strumento, che è il criostato, che agisce ad una temperatura bassa, meno 20, quindi viene tagliato al criostato e ci dà, in tempi rapidissimi, un allestimento simile a quello che è rutinario. Nel giro di qualche minuto il chirurgo ha la risposta. L'unità operativa complessa di anatomia e istologia patologica dell'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, nata dalla recente unificazione dei reparti di Borgo Trento e Borgo Roma, offre un supporto fondamentale alla chirurgia dei trapianti d'organo. Il patologo studia l'organo prima dell'intervento per assicurarne l'idoneità e successivamente monitorizza l'eventuale patologia da rigetto e le patologie associate. Nell'ambito dei trapianti d'organo è un'attività che dura 24 ore per 365 giorni all'anno, quindi è un'attività continua e noi guardiamo un'immagine al microscopio e valutando il tessuto di un organo, quale può essere il re nel fegato per esempio, noi decidiamo se ha una funzionalità ottima per il ricevente. Quindi noi entriamo nell'attività decisionale critica se effettivamente un organo che noi preleviamo purtroppo da un cadavere in quel momento è utile e funzionale per una nuova vita, per una nuova persona che può usufruire proprio di questa funzionalità. Noi decidiamo che livello di funzionalità ha questo organo, quindi è una decisione importante ovviamente integrata con altri professionisti all'interno di un quadro decisionale molto critico. La tecnologia viene in aiuto dei patologi che possono ottenere consulti con colleghi in altre sedi o addirittura all'estero attraverso la telepatologia. Siamo stati quest'anno fortunati perché per spostare il miglioramento delle attività organizzative bisogna fare dei progetti, non possiamo avere solo delle idee, bisogna renderle fattibili secondo le risorse, quindi noi abbiamo fatto quello che viene chiamato una call, una chiamata, abbiamo proposto un'idea con tutto il gruppo dell'anatomia patologica, con il gruppo che sta sia in Borgo Trento che in Borgo Roma, ormai siamo uniti e il gruppo ha proprio avuto la fortuna di ricevere un'approvazione di un finanziamento importante, Prita si chiama appunto, per poter scambiare l'immagine e condividerla a livello di internet, a livello cloud. Una volta noi dovevamo inviare il frammento, il pezzo per chiedere una consulenza, immaginate appunto in un caso dubbio durante i trapianti, e cosa hai fatto con questo dubbio? Beh, l'ho risolto scambiando un'opinione con un esperto. Ecco, la tecnologia oggi e la telepatologia nel nostro ambito ci permette questo con un click. Quindi oggi io posso accedere a un...